Salve ragazzi, qui è il Grande Mark e benvenuti finalmente, dopo un bel po' di tempo, su Pokémon Masters X. Ragazzi, oggi come avete letto dal titolo, forse avrò messo o trovato tizio o caio, ma oggi siamo di nuovo in una unicerca, in una ricerca delle uniricerca. Ragazzi, io questo video lo sto registrando il 31 dicembre, ma uscirà penso il primo mercoledì di gennaio, che controllo qua sul calendario sul computer, che è il 6, quindi ok. Questo quindi rientrerà come secondo, terzo video dell'anno nuovo. E vai, ragazzuoli, non vedo l'ora perché appunto il primo gennaio le batch, i master party, le cose che mi interessano, vanno via e non mi va di perderli, quindi almeno ci provo. Quindi, dirigiamoci nell'unicerca perché, prima mi ingratto l'archio, ho 28.230 gemme. Il mio obiettivo era arrivare, fino ad oggi, ad averne almeno 30.000, così poterne fare almeno 10. 5 su questo lui che volevo fare, su Enne e Zekrom. E... Dove siete? E non questi, ma... Ok, questa. E anche su Master Party Unicerca 3 VIP. Con rosso Charizard, blu e Blastoise e Leaf Venusaur, appunto, tutti Costomax. Mi piacerebbe di Garlung, appunto, volevo farne 5 e 5. Contando che ho blu e Blastoise con 2 di Unimossa, Charizard a 1 e Venusaur pure a 1. Diciamo, ragazzi, che vorrei riuscire, appunto, a farne quello che si può su Enne e Zekrom e anche, appunto, su... L'unicerca Master Party di rosso, blu e verde. Alla bocca, questa di sale. Ok. Ma, ragazzi, ovviamente, prima di iniziare voglio subito un bel pollicione in su, carichi come non mai, perché voglio veramente trovare... Enne e Zekrom sì e no, perché comunque è un buon attaccante. E' un buon attaccante di tipo Fulmine Drago, che non è... non è affatto male. Che ha anche delle buone combo, ma non voglio parlarne in questo video di Zekrom e di Enne. Più che altro vorrei completare molte... molte unità che mi mancano. Io voglio iniziare, prima di tutto, con... Madonna, quante... Con questa, quindi il Master Party Unicerca 3 Bip, che non ha probabilità del 5% di trovare i 5 stelle o cosa, però... Non si sa mai. Comunque noi ne abbiamo 28.230. Quindi, andando per la tabellina del 3, sono 9. Sono 9 Unicerche su... Chi voglio io. Sono 9, perlomeno. Più che Enne e Zekrom, volevo fare loro, ma ripensandoci... Forse è meglio fare tipo questi. Cioè... Unicerca con un 5 stelle garantita, Kanto e Yoto. Oane e Sinnoh. Unima. E Kalos e Alora. Che vanno via tutte domani. Sono 3, 6, 9 e 12. Che le posso fare solo una volta e poi vanno via. Quindi quelle da fare, assolutamente. E poi penseremo agli altri. Prima di tutto iniziamo con questa. Con Kanto e Yoto. Ovviamente è un Unicerche con 5 stelle garantito. Quindi... Ci sarà per forza un 5 stelle. Io spero ovviamente di riuscire a trovare... Magari di Kanto, Lens. Magari di Kanto, Lens. Perché vorrei aumentare un po' l'unimossa. Ma in generale chiunque c'è mi sta bene, diciamo. 2, 3, Surge. Signore e signore, sono veramente felice di essere tua amica. Cetra, ok. Cetra di Ono, ok. Livello 2 di Unimossa, va bene. 4, Surge. Lorelei e Lapras. Ha 4, buono. Mi mancava. Ancora Surge. Beedrill. 2, Beedrill. 3, Beedrill. Andiamo a cercare Pokémon, non ho visti prima. Blu. No. No, è Cristi. Cristi e Totodale. Che ho a livello 4. Ottimo. Buono. Quindi 2 nuovi. di cui Cetra e Cicorita a livello 2 e Totodale e Cristi a livello 4. Perfetto. Ottimo così. E anche Lorelei e Lapras mi sono salito. Allora, posso farlo solo una volta. Infatti mi è andato via, quindi perfetto. Adesso andrei a fare Owen e Sinno. Sperando in Gallei di Altaria che li vorrei tutti e due un sacco. Perché comunque questo è garantito forse la Cristi. Comunque è super mega potente questa unicerca. Veramente spererei proprio in Linu, Gallei, Altaria e non mi ricordo come si chiama. Speriamo in mente loro perché mi servono. Krindos, Makuita, Arcanine, Nosepass. Il primo capitolo di questo. Oh, è lei, è lei. L'ho trovata? L'ho trovata? Sì, l'ho trovata. L'ho chiamata e l'ho trovata. Ortiglia e Altaria. Vai così. Ne avevo già parlato in un video quando era uscita che era un buon tecnico se non erro. Quindi vai così. Sono strafelice di nuovo. Di nuovo. Livello 2. Vai così. Livello 2. Vai così. Di nuovo Arcanine. Uh, Brandon. L'ho maxato? No, 4 o 5. Va bene. Ho perso l'animazione ma... Dettagli buono così. Veramente ottimo così con due Altaria. Ne avevo già parlato perché era un buon... buon tecnico. E' molto forte. Con qualche strategia si poteva ben fare. Cose molto interessanti. Un'erco di Unima. Quindi andiamo qua sinceramente... Ma... Diciamo che non spero nessuno di particolare qua di Unima. Forse... Non saprei. Forse... Bravery. Forse Bravery magari. Ma non saprei. Uh. Questo qua ce l'avevo già. Infatti il Super 4. Che ce l'ho a livello 2. Mi sta bene. Mirto nell'iPad. Mi sta bene. Va bene, va bene, va bene. Poi Uniticket a Go-Go. Mi sta benissimo anche gli Uniticket. Però... Uh. E basta. Uh. Questo è Artemisio, no? Mi sfuggia. Mi sto dimenticando come si chiamano. Livello 2 anche di lui. Artemisio, avevo ragione. Artemisio e Livanni. Buono. Tutte e due livello 2. Se non erro, sì. Tutte e due livello 2. Va bene. Va bene. Direi andare con l'ultima. Kalos e Alola. E qua... Serena e Fennekin. Non sarebbe una brutta... Trovata. Ah. Ci potrebbero sperare indarci. Non lo ho disegno anche. Va bene. Qua spero veramente... Vivamente anche in Serena e Fennekin. O anche in... L'MD e Lulis. Che è anche l'MD e Lulis. Mi piacerebbe. Ok, dai. Su. 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 Su dai che mi dai qualcosa di buono. Dai, adesso che mi dai qualcosa di buono. Sì, però non mi devi dare sempre personaggini così. Ok. Ok. Quando arri... Ma è l'ultimo. Se è l'ultimo, mica. Ok. Un tuo avversario sarò io. Un tuo avversario sarò io. Ah, Kukui. Kukui e Likarok. Che non ce l'avevo. Va bene. Ed era appunto l'ultimo. Mannaggia. Però buono. Abbiamo trovato personaggi... Unità che mi servivano. Quindi ok. Mi sta bene. Abbiamo 16. Abbiamo 16. Quindi possiamo farlo ancora a 3, 6, 9, 12, 15. Ancora 5 volt. Ok. Penso che... Intanto mi finendo qua su... Il trio di canto. Per vedere se... Ci appare magari subito un bel... Rosso Costumax. E Charizard. Non mi dispiacerebbe... Averlo almeno a 2. A livello 2. Comunque questa mi sa che è molto basilare. Come un ricerca. Infatti... Infatti una merda totale. Tranne per Roserade e Gardegna. Che l'ho maxata però. E anche l'Ore l'ho maxata però. Non mi interessa più di tanto. No, in realtà sono 16. Posso farne forse di... No, non me ne mancano sempre mille. Niente. Uh, ok. Qua c'è il tuo netto. La super ricarica... Arcobaleno. Ok, ok. Il mega antennone. Il mega antennone satellitare che prende Sky gratuitamente. Comunque Gardegna che appunto al max. Quindi uniti che 4 stelle. 3 stelle, 4 stelle. 3 stelle. 3 stelle. 4 stelle. 3 stelle. 4 stelle. 3 stelle. 3 stelle. 4 stelle. Blu. Madonna. Non ho schiacciato troppo più veloce. Comunque. Blu. C'è la livello 3 quindi posso dargli la teca pietra unità. E mi sta benissimo. Perché con la teca pietra unità è buono. Perché posso aumentare e fare più strategie con il blu e cosa. Va bene. Adesso, per favore, dammi almeno Charizard. Se mi dà il Charizard, se mi dà il leaf rosso, una coppia, mi sono contentissimo. Basta che mi dà queste due e sono veramente felice. Sì, però non mi dare. Uh, va bene. Narciso e Clowizard che ho maxato adesso. Quindi, ok. Il mostro è tutta la potenza di cui siamo capaci. Il mostro è tutta la potenza di cui siamo capaci. Uh, Iridio e Silvalli. Non mi dispiace. Vorrei uno del tiro di canto. Tolto blu ovviamente. Quindi o rosso o verde. Ok, chi è il Silvalli? È nuovo, è figo, tutto quello che vuoi, cazzo, e mazzi vari. Però non me ne frega un cacchio. Sapete che c'è? Io continuo qua. Enne Zekrom non mi importa, sinceramente, di Enne Zekrom. Vai. Dai, 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 dai. Io devo riuscire a fare un buon team con Charizard. Ho trovato la coppia, la coppiata perfetta. Quindi vorrei che, diciamo... Dai. La possibilità di trovare. Pino, arrivo a due. Ok. Marzio, che non mi interessa. Due Marzio, bene. Telepatter, Raffaello, Chris. Credi la potenza del tuo Pokémon e accetta ogni singola sfida. Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Leaf e Eevee. Sì, ma non intendevo questo Leaf. Eh, Marzio lì, no, Martio, mamma. Merton lì. Level 3. Raffaango, pezzo di merda. No, dai. Oh, che pole, ce l'ho a livello 3. Ma io, Leaf, non intendevo questa Leaf. Intendevo l'altra Leaf, quella con Venusaur, quella a costumax. Signore e signori, l'ultima di questo bestiale video. Fatela insieme a me se volete. 3, 2, 1. Speravo fosse più animata, ma niente di tanto. Ok, non sarà tutta neanche l'antenna, quindi sarà una monkey di merda. Che bello, io guardo, lascio correre, guarda, 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 che non troverò un cazzo. Eh, infatti, lo sapevo che non trovavo un emerito. Cazzo. Vabbè, c'è andata troppo... Non di culo, però c'è andata molto bene prima, quindi... Direi che... Si può dire... Che non buttiamo via tutto. Non si butta via tutto, dai. Non si butta via tutto. Ragazzuoli, sono contento. Questa qua è stata, diciamo... La pool, che per me è di fine anno. Perché non ho... Ho 1230 gemme, ma... Non bastano. Ma però... Cioè, ma però... Beh. Siamo a fine anno, per me, quindi... Comunque... Ragazzuoli... Per questo video è tutto. Mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su, commentate e condividete, iscrivetevi se non avete che l'ho fatto. Attivate la campione di notifiche per non perdervi nessun nuovo mio fantastico video. Ovviamente seguitemi in Instagram e in Twitch, che i due link sono qua sotto, in descrizione. Noi ci vediamo in un prossimo e fantastico, megagalattico video. Vi lascio con un root, quindi... Pica pica tutti e... Let's go! Ok.